Oggi parleremo di uno degli elementi fondamentali di storia di prima media. Infatti faremo un'introduzione alla storia medievale, che però può essere utile per tutti gli studenti di tutti gli ordini e gradi. Come sempre, preparo PowerPoint e cominciamo con la lezione. Iniziamo quindi questa video-lezione dando una prima definizione di che cos'è il Medioevo. Proprio da un punto di vista letterale, possiamo dire, il Medioevo significa età di mezzo. Infatti era chiamato proprio anche età di mezzo, soprattutto nel periodo del Rinascimento. Questo termine nasce infatti più o meno nel XV secolo, quindi tra il 1400 e il 1500, durante quello che gli storici chiamano appunto Rinascimento. E che cosa si intendeva con Medioevo? Si intendeva un'età di passaggio che era considerata un po' un'epoca buia, cioè un'epoca quindi negativa, tra lo splendore dei Romani, degli Antichi, dei Greci e lo splendore rinascimentale dei moderni. Quindi un'età di mezzo vista in maniera abbastanza negativa, che però poi aveva portato appunto alla nascita del Rinascimento. Per quanto riguarda le date importanti da ricordare, sono il 476, che è l'anno della caduta di Roma, che diciamo da inizio appunto al Medioevo, e il 1492, che è l'anno in cui finisce. Nel mezzo troviamo l'anno 1000, che anch'esso è importante, perché divide da una parte l'Alto Medioevo, che è il periodo appunto che va dal 476 al 1000, e poi il Basso Medioevo, che invece va dal 1000 al 1492. E poi vi spiegherò quali sono più o meno le differenze tra Alto e Basso Medioevo. Andiamo a vedere però perché durante il Rinascimento il Medioevo era considerata un'epoca buia. Inizialmente, diciamo, l'elemento fondamentale fu un enorme calo demografico, cioè un calo della popolazione. In tutta Europa, in particolare nell'Europa occidentale, la popolazione calò moltissimo. Quali erano le cause di questo calo demografico? Innanzitutto, guerre ed invasioni. Abbiamo visto le invasioni barbariche alla fine dell'età antica e all'inizio appunto del Medioevo, e anche diverse guerre, che poi studieremo nei prossimi video, che portarono ovviamente ad un calo della popolazione. Questo calo della popolazione, dovuto alle guerre e alle invasioni, portò ovviamente con sé anche le carestie, perché non c'era più nessuno che lavorava nei campi, e quindi il cibo scarseggiava. Quando il cibo scarseggia, ci si ammala più facilmente. Ed infatti, il periodo soprattutto dell'Alto Medioevo, era un periodo caratterizzato da molte epidemie, quindi malattie che colpivano grandi fette di popolazione, uccidendo moltissime di loro. Questo calo demografico portò anche ad un altro effetto, e cioè allo svuotamento delle città. Durante il Medioevo, soprattutto all'inizio, le città si rimpiccioliscono sempre di più, gli abitanti sono sempre meno, e tornano ad essere come dei piccoli villaggi, e vengono costruite le mura attorno alle città per cercare di renderle più sicure, ma questo non le salva comunque dalle guerre. Questa crisi delle città porta con sé anche a una crisi dei commerci. Infatti, le città erano dove si scambiavano le merci, e il fatto che adesso non ci fossero più città importanti come a un tempo, portò anche alla fine del commercio. Un altro problema fu quello delle campagne. Infatti, si ebbe un grande spopolamento anche nelle campagne, proprio perché non erano più sicure a causa degli eserciti e delle invasioni barbariche, e ciò portò anche a un peggioramento dell'agricoltura, come lo abbiamo visto con le carestie che poi portarono a nuove epidemie. Andiamo a vedere quali sono invece le caratteristiche generali di quest'epoca. La prima, ve l'ho già detta nella slide precedente, è un periodo di crisi, vi ho scritto per causa delle guerre, malattie e spopolamento, ma in questo periodo nascono anche nuovi regni molto importanti, soprattutto nell'Europa occidentale. Infatti, per esempio, l'Inghilterra, la Francia e anche la Spagna e il Portogallo sono tutte nazioni che affondano le proprie radici nel periodo del Medioevo, e quindi è importante sicuramente per questo motivo. Un altro elemento fondamentale del Medioevo è la grande diffusione e lo sviluppo di due religioni ancora oggi centrali, e cioè il Cristianesimo, che si afferma proprio in questo periodo, ma anche l'Islam, che nasce e si sviluppa proprio in epoca medievale. Un altro fenomeno interessante nato durante il Medioevo è il fenomeno del Feudalesimo, che era un modo, diciamo, di gestire il potere, che poi studieremo in un prossimo video apposta, fatto per il Feudalesimo. Infine, c'è anche da sottolineare come l'Alto Medioevo sia il periodo di grande crisi. In realtà, dopo l'anno 1000, più o meno, la situazione inizia a migliorare, le città tornano a fiorire, anche i commerci si fanno sempre più intensi, e quindi la situazione, possiamo dire, che nel Basso Medioevo migliora notevolmente, tanto che poi si arriverà appunto all'Umanesimo e al Rinascimento, che sono due periodi invece molto positivi, che, diciamo, sono proprio verso la fine. del Medioevo è all'inizio dell'età moderna. Concludiamo questa lezione con un'ultima slide sul ruolo della Chiesa. L'abbiamo detto nella slide precedente che la Chiesa Cattolica, il cristianesimo in generale, diventa fondamentale proprio in quest'epoca, durante il Medioevo. Infatti, soprattutto in Italia, sono i Vescovi che si occupano di difendere e di dirigere, diciamo, i vari territori. Sono loro che li gestiscono, sono loro che danno le terre, sono loro che aiutano i commerci. Quindi la figura di questi ecclesiastici, di questi uomini di Chiesa, diventa sempre più importante. E tra di loro si segnala sempre di più la figura del Vescovo di Roma, cioè il Papa, che infatti è in questo periodo che diventa il Capo della Chiesa. Non c'era scritto da nessuna parte che fosse proprio il Vescovo di Roma a diventare Papa, cioè ad essere il più importante tra i Vescovi. Fu il suo prestigio, il fatto che piano piano riuscì, diciamo, anche a conquistare certi territori, che fece sì che lo rese, diciamo, appunto il primo tra i Vescovi del cristianesimo. Un altro fenomeno importante, sempre legato alla Chiesa del Medioevo, è la nascita del monachesimo, cioè un movimento che appunto si sviluppa nel Medioevo, in cui molte persone cominciano ad andare a pregare in luoghi molto remoti, cioè molto lontani dalle città, in aperta campagna, lontano dal mondo. Sono persone che si ritirano, diciamo, dal resto della vita per andare a pregare e a lavorare in campagna. E il fenomeno del monachesimo fu molto sviluppato proprio in epoca medievale. Ovviamente erano tutti uomini di Chiesa che lasciavano le città per andare a lavorare in questi eremi, cioè luoghi distanti nelle campagne. Per quanto riguarda l'Italia, uno degli uomini più importanti, per quanto riguarda anche il monachesimo, fu San Benedetto da Norcia, che fondò un proprio movimento, quello dei Benedettini, infatti si chiameranno, e nel 529 fondò un proprio monastero nella zona di Monte Cassino, un monastero che esiste ancora oggi e come regola per i monaci che decidevano di andare a vivere lì ne aveva messa una fondamentale, che era ora et labora, cioè prega, ora in latino significava pregare, e lavora. Quindi alternavano i monaci che andavano a vivere a Monte Cassino, alternavano la preghiera, al lavoro nei campi. Bene, come sempre spero che questa video lezione vi sia piaciuta e ci vediamo in classe.